Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. E c'è il gol! Palla in rete! Una cannonata, un missile che non ha lasciato scampo al portiere. Non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza, ha scaricato in rete una bordata viciniana. È una rete questa che vale da sola il prezzo del biglietto. Un missile che ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Giro, contrasto ruvido, vigoroso.